24 aprile 2015, Campo San Geremia a Venezia. Siamo un gruppo di docenti senza appartenenza politica né cittacale e siamo qui riuniti in sitino informativo per dire no al DDL Buona Scuola di Renzi. Il governo ha fatto una falsa propaganda in merito a questo DDL e noi diciamo basta alle bugie. Non è vero che ci sarà la stabilizzazione dei precari, non è vero che le gradatorie a esaurimento saranno esaurite. Solo parte dei docenti sarà assunta e la parte residuale perderà i diritti acquisiti, essendo costretta a ripetere il concorso per poter accedere all'insegnamento. Chi non fa parte delle gradatorie a esaurimento ed è in seconda e terza fascia viene completamente ignorato da questa riforma. Quindi noi siamo qui per difendere i diritti di tutto il corpo docente. Diciamo no anche ai maggiori finanziamenti che continuano ad essere elargiti a favore delle scuole private, a discapito dei finanziamenti per la scuola pubblica. Noi vogliamo una scuola pubblica libera e indipendente ed è anche per questo che diciamo no ai maggiori poteri previsti per il dirigente scolastico. In primis facciamo riferimento al potere di assumere i docenti. L'autonomia, l'indipendenza del docente è garantita dall'esistenza delle graduatorie. Vogliamo continuare ad essere assunti dalle graduatorie e non dal dirigente scolastico. Vogliamo una scuola migliore per i nostri figli soprattutto. Ed è per questo che diciamo no al DDL, basta bugie, renti. Grazie.